ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodione dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatona di quelle dedicate agli orologi che tanto vi piacciono che ci piacciono che mi piacciono insomma che insomma che ci piacciono orologi pezzi del ferro da mettere al polso che a molti non dicono niente ma noi che siamo appassionati ci dicono tanto e quale migliore occasione è quella di vedere i vostri orologi tutti insieme per farci salire un pochino la scimmietta perché la scimmietta solitamente se ne sta qua dietro nascosta no poi quando vede gli orologi sullo schermo si arrampica e sale sulla spalla sale sulla spalla e vuole la nocciolina da mangiare capito la nocciolina non gliela puoi dare guardando i video la nocciolina gliela devi dare portandola in giro a comprare gli orologi quando compri l'orologio gli dai la nocciolina lei si appassisce per un pochino poi dopo tornare attacco va bene abbandona le ciance dai come partecipare lo sapete video massimo 7 minuti in orizzontale mi raccomando l'orologio del giorno è questo bellissimo longin legend diver 39 mm quadrante nero bracciale a bicchiere di riso bag interna girevole orologio che ora sto cominciando a indossare spesso perché arriva il momento di andare al mare si va al mare e legend diver vuole vedere vuole vedere il mare lui quando vado sulla spiaggia lui tende tende proprio a tuffarsi come fosse un tonno nostromo tende a tuffarsi dentro perché vuole fare il bagno e io glielo devo far fare l'hanno costruito apposta cosa lo devo lasciare a casa a guardare la televisione no lo porto al mare ho fuoco alle polveri qua la barra spaziatrice pronta con l'indice anche lui pronto e iniziamo 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 e speriamo in bene davide buongiorno giorno una rapida carrellata sui miei tre orloggi tre questo un mhr sparviero sparviero simpatico braccialato che ho preso in un secondo momento basta che è carino è un orologio che a me piace molto perché vedi è molto solido è un orologio e anche a block è un orologio di quelli che come dire puoi osare non si fermano mai nella vita che conduco io è una particolarità che un esigenza che ho questo è il primo il secondo è un cronografo amelta emilton bellino questo come si chiama esattamente 77 anche esso automatico e simpatico proprio perché vi voglio far vedere un particolare oh mannaggia ma tanto è caduto ma non succede niente anche questo è un modello che come vedi non gli succede nulla e vado avanti così andiamo avanti con questo che sembra di un genere più bello questo è tutto dedicato no mega constellation vai però come vedi anche questo non non ha paura di subire cosa fai danni perché dovete capire gli orologi vengono testati per la loro solidità oltre che per la loro precisione perciò trattarli con i guanti bianchi vedi è caduto anche questo continua a funzionare non è che succede nulla perciò bisogna usare le cose non sono fatte solo per essere guardate va bene va bene spero ti siano piaciuto un saluto a tutto il canale ciao 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 c'è stato proprio veramente un perdonami ma cosa non ho voluto farti uno scherzo nessun orologio è caduto e nessun orologio ha preso urti volevo farti questo scherzo perché ogni volta che ho visto altri tuoi filmati ogni volta che qualcuno trattava mai gli orologi in oridivi allora ho detto questo lo voglio far sbrocare è stato un piacere ciao davide a presto risentirci sì a risentirci sei stato un simpaticone ma io l'avevo capito che c'era qualcosa che non andava sotto cioè era troppo troppo finto capito se si vedeva cioè aspettavo da un momento all'altro la sparata e la sparata è stata sei un simpaticone se la fa e se la ride se 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 le fa tutta risa risuta risata da solo bravo bravo sei un simpaticone adesso lo lasciamo per farti fare una figura di cacca con tutti gli altri che guardano che hai voluto fare simpaticone ma secondo me non ci sei riuscito no prossimo video buongiorno davide buongiorno al canale canale ti mando un video dopo qualche anno di aggiornamento ti mandai un video qualche anno fa sulla mia collezione ti faceva domanda su un orologio e il consiglio che mi desti l'ho seguito e alla fine non mi sono pentito diciamo la cosa mi consigli allora partiamo da una veloce carrellata di alcuni orologi questo è un emilton a carico manuale nel quale ho messo un nato non il suo originale è un orologio molto comodo molto ben fatto e che ovviamente quasi in tutte le collezioni è presente insomma c'è poco da aggiungere lo conosciamo tutti sempre in casa emilton una storia un pochino leggermente più interessante è questo emilton automatico che ho preso con quadrante blu ho preso a un'asta un famoso sito di aste e mi piaceva il quadrante il tipo di acciaio era anche un prezzo interessante correndo di rischi ovviamente che quando si prende un orologio in asta praticamente non funzionava non teneva bene il tempo all'emilton mi hanno detto che mi avrebbero dato 30 per cento di sconto su un orologio nuovo quello è irreparabile recandomi dal mio orologiaio con 100 euro me l'ha rimesso in sesso sono movimenti standard quindi diciamo ovviamente il consiglio è si corre qualche rischio a comprare orologi in questo modo poi finché sono orologi di questo valore però lo volevo riparare è un orologio che mi piace molto sottile comodo mi piace l'acciaio spazzolato quindi sono contento e anche in questo caso abbiamo scoperto che se sono troppo vecchi gli orologi anche per esempio emilton qua non non te lo riparano non ci mettono le mani sopra perché probabilmente sto qua è un età 28 24 e loro probabilmente gli età 28 24 non ce li hanno più da mettere dentro al volo così credo è cioè supposizione che gli mandi un orologio con l'h10 la spirale libera no loro sostituiscono il calibro ci mettono quelli che hanno nuovi no in questo caso non potendo metterci l'h10 perché un età 28 24 non ti non ti ci mettono le mani sopra e ti propongono uno sconto del 30 per cento che non è nemmeno tantissimo a dirla tutta quindi ti giustamente l'ha portato dal dall'orologiaio che un 100 euro te l'ha sistemato però sono 100 euro che hai aggiunto al prezzo di acquisto su all'asta di quell'orologio lì a volte ne vale la pena si può valerne la pena anche io tendo a avere gli orologi tutti a posto marcianti perfettamente quindi a farli sistemare no quelli di un certo pregio se prendo un un orologino da 50 euro vintage al banchetto magari lo tengo così com'è anche se va un minuto avanti no però in questo caso è fatto bene a farlo sistemare tra l'altro è che carino poi questo è l'orologio di cui ti chiesi il consiglio qualche anno fa è un omega di mio nonno un orologio del 64 a 60 anni e ti chiesi ma faresti qualcosa per il quadrante mi dicessi è un ricordo il quadrante non si tocca e non l'ho fatto e giustamente era il consiglio giusto e quindi me lo metto sempre volentieri l'ho fatto revisionare tiene ancora benissimo tempo dopo 60 anni dimostra la qualità di questi orologi a carica manuale e elegante me lo metto sempre volentieri poi è un ricordo quindi il valore ovviamente legato a quello bello assai sempre in casa omega ho comprato recentemente un constellation la riferenza quella 2000 automatico mi piaceva l'idea di questo tipo d'orologio pensavo che col bracciale non l'ho mai essere giustamente un errore mi piace molto è molto bello però è un orologio che considero che lo metto con un'ottica di orologio elegante perché è piccolo il polso 35,5 mm certo da fare pensavo il bracciale integrato un po lo allargasse ma insomma è la ghiera con i numeri romani lo rende un pochino molto compatto devo dire che mi piace uno metto volentieri magari sotto una camicia è un orologio particolare che volevo avere quindi sono soddisfatto però diciamo il consiglio proviamoli sempre prima se possibile certo questo longin è un orologio che ho preso qualche anno fa per baciare in acciaio come consigli sempre ovviamente secondo me è un orologio molto interessante allora ha 300 metri di imprimibilità come un diver ma non ha l'apperenza di un diver anche questa è una cosa abbastanza rara no e lo rende un po unico perché sia elegante sia molto sportivo si può usare anche al mare è un orologio del genere tecnico e la ghiera oggettivamente non è che quasi nessuno la usa la sua finalità nessuno e poi io ci ho tolto il bracciale in acciaio in questo periodo ho messo questo bracciale in gomma non originale diciamo longin usa delle misure dispari 21 quant'è di larghezza delle anze quindi questo è un 21 millimetri o un 19 non ricordo quindi una volta non si trovavano ora si trovano anche questo tipo di misura su amazon se uno volesse approcciarsi a questo tipo di orologio lo consiglio mi piace è solido e ben fatto a me non mi ha mai fatto impazzire sto questa versione qua del conquest con il 12 e 6 così giganti sinceramente ritengo sia migliore quella che è uscita adesso però non si può dire che almeno è originale cioè non assomiglia nessuno è veramente più ha più personalità di quello nuovo addirittura diciamo così il discorso dei 21 e dei 19 si si trovano però la scelta è sempre un po più ridotta se poi ad esempio un nato da 19 o da 21 boh ce ne sono veramente pochi e non è che c'è tutta questa scelta sempre una cosa diciamo analoga simile come tipo gli orologi e il livello è questo tsu prx 40 mm che non sa che questo è molto diffuso e mi piace forse avessi aspettato aver preso il 35 e 5 perché indossandolo questo ha un'apparenza un pochino più larga il mio corso poteva andare bene ma l'ho preso volentieri ci ho messo questo cinturino in gomma perché era molto appariscente con il bracciale in acciaio comunque ben fatto non è proprio il suo sto aspettando soluzioni migliori in attesa lo metto comunque volentieri con questo con questa soluzione comprata addirittura su aliexpress quindi puoi immaginare la qualità complessiva poi un altro orologio diciamo è una coppia di orologi di cui volevo parlare brevemente sono questi due dei just della rolex ne parlo insieme così si fa è più rapida la questione allora anch'io tendo a avere orologi di tipologia diversa per me dei just soprattutto le vecchie referenze sono per me è l'orologio per eccellenza mi piace molto mi sempre piaciuto molto quindi nel tempo ne ho acquisiti due in particolare questo nero l'ho preso tanto con cittadino di viareggio qualche anno fa un ottimo prezzo e l'altro anche lato da un privato allora ovviamente qualcosa posso consigliare intanto se si prende un orologio privato facciamolo controllare da un orologio questo orologio quello con il quadrante nero è tutto corretto l'unica cosa che ha è aveva una saldatura una piccola saldatura al bilanciere al massa oscillante scusami me lo disse l'orologio a viareggio io decisi comunque di prenderlo correndo il rischio dopo qualche anno in una revisione l'orologio mi ha detto di che andava cambiato e quindi con 250 euro l'ho rimesso a nuovo ora è perfetto sono due orologi sì la stessa orologio sono comunque due 1603 degli anni fin anni 60 inizio 70 ma uno ha un giubilì e un quadrante nero scuro più elegante l'altro invece una un bracciale oyster e maglie ripiegate è un pochino più sportivo col quadrante bianco insomma due orologi che a me piacciono molto ovviamente la rimessa non rapida del datario è un po scomoda ma insomma noi non teniamo gli orologi per comodità diciamo o comunque non solo per comodità bravo un altro orologio che ho comprato recentemente è questo seiko che ovviamente tutti parlano era il seiko che volevo avere l'ho preso mi piace molto perché ha un seiko compatto al posto questo fortunatamente l'ho provato prima di comprarlo e mi piace molto da un senso di qualità che sinceramente non ha niente a invidiare a orologi di fascia più alta secondo me la cosa che mi piace è che riprende le linee del passato degli anni del vecchio seiko glorioso ma non le scimmiotta non è che ci sono stranezze un po costruite ad arte è un ammodernamento di una linea classica bella uscita quindi 62 massi che mi piace molto buono anche la chiusura il e il cinturino in gomma va bene l'ultimo orologio cos'è cos'è sempre rimanendo sul tema diver e faccio vedere questo tudor che ho anche questo top con la ghiera blu ci piace tanto ora non mi ricordo il nome della riferenza nel dettaglio ma è un orologio sinceramente di grande qualità per chi si lamenta di spessore troppo elevato della cassa rivetti eccetera beh l'orologio è fatto così quindi o si accetta o non si compra a me non le trovo problemi di alcun tipo anzi danno un senso anche di solidità la cassa così spessa mi piaceva la ghiera opaca così in alluminio e non quelle ghiera luminose che ci sono oggi in ceramica quindi un orologio che mi piace mettere insomma aveva anche un po' estrapazzato no un orologio apposta utilizzato con calma va bene davide ti ringrazio ringrazio tutti e alla prossima ciao 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 gran belli orologini soprattutto quest'ultimo black bay blu che tra l'altro blu io sceglierei se dovessi prendere un black bay no sceglierei quello con la ghiera rossa da 41 io però in secondo battuta questo blu che almeno si discosta un po dai soliti colori no che siamo abituati a vedere i due dei giusti simpatici e però io ecco quello è il classico esempio di cosa io non riuscirei a fare cioè non riuscirei a spendere tanti soldi per comprare degli roggi vintage così di quegli anni lì 60 70 hai detto no non ci riuscirei poi magari un qualche magagnetta dietro non si sa dove si va a pescare ora oggi nuovi o semi nuovi se c'è da spendere più di 1000 2000 euro cioè non ci riesco a dare il vinteggissimo il vinteggissimo come fa tutti però due belli acquisti ti capisco e 22 day just in collezione ti capisco perché il day just è un orologio che mi piace molto anche a me e cioè a volte ci penso quasi no il day just da 41 che è 39 ma se prendessi anche un 36 per no diversificare al polso come sta poi che senso ha faccio fatica a indossare gli orologi che ho ne prendo anche uno doppio e dove andiamo dai c'è la scimmia ogni tanto bisogna che dargli un uppercut e buttarla giù e farla dormire gli do un pugnetto la faccio a dormire io la faccio a dormire prossimo video ciao davide ti faccio complimenti per i contenuti che porti grazie ormai da tre anni e questo è il primo video che ti invio vedremo una carrellata di seco vintage sia al quarzo che meccanici e partiamo un po da quelli al quarzo così ci rileviamo dalle scarlet come sappiamo nel 1983 è stato prodotto il seco 7 a 28 quindi diciamo il movimento più movimento al quarzo cronografico analogico della storia in questo caso una referenza 7020 fatto revisionare ora ti hai detto no ma io a volte penso di essere frainteso cioè va bene il quarzo che non mi piacciono che non non fanno per me quando dico che il quarzo non non mi piacciono intendo dire gli orologi cioè perché devo comprarmi un orologio moderno al quarzo oppure la versione un omega acquaterra al quarzo non me lo compro un omega acquaterra al quarzo no ma in questo caso cioè proprio per seco degli anni 80 il quarzo è tanta roba cioè proprio rappresentativo della della storia dell'orologeria cioè non è che bisogna levarci dalle scatole velocemente anzi diamogli un'occhiata come si deve come questo cronografo qua al quarzo dell'83 ha in mente tenere 83 fare uno un cronografo al quarzo cosa rappresentava tanta roba no secondo me ha quasi la stessa valenza dei primi cronografi automatici del 69 cioè siamo su quel livello lì una nuova tecnologia e implementano nuove complicazioni guardiamole apprezziamole cioè a volte può dire di essere frainteso sempre col quarto quarzo uno uno può anche capire ma passiamo poi al seco 7 a 3 8 quindi diciamo aggiunge le complicazioni di giorno data vedi completamente originale questo è un seco 7 a 3 8 7 7 2 7 0 passiamo poi un seco molto particolare un seco 7 t 5 9 un movimento cronografico al quarzo analogico che però prevede oltre la mancetta la sfera dei decimi di secondo anche quella dei centesimi di secondo quasi impercettibile a occhio nudo che sentiamo bello sempre al quarzo facciamo vedere un seco 7 t 3 4 sia comunemente chiamato segoo diciamo rispetto al 7 t 3 2 non ha diciamo il classico riquadro della data ma un vero e proprio sub dial e in questa è una referenza 7 a 1 0 complimenti levati quarsi vediamo un po i meccanici iniziamo con un seco 66 0 2 di cui mi piace molto la cassa e le sfere che riprendono un po diciamo gli stilemi del grammar of design come sappiamo il caro tanaka si ispira proprio al taglio delle gemme preziose questa è una referenza 6 0 2 80 50 bello classico sfere d'offen proprio perfetto riprendendo questi stilemi vediamo un seco 5 1 2 6 80 60 diciamo questo movimento è stato prodotto dal 69 al 71 a 19.800 alternanze diciamo si cambia il la data pigiando sulla corona bellini sti seco 5 vintage molto carino molto semplice col fondello chiuso e diciamo della stessa referenza ho trovato uno addirittura con il bracciale originale e finale originale le sfere sono leggermente diverse rispetto al modello precedente passiamo poi un orologio che è stato definito il nonno del gran seico ossia il seco lord marvel in questo caso in 57 40 c 8000 quindi diciamo il movimento al cui interno è un 57 40 c a 36 mila alternanze un carica manuale senza stop dei secondi veramente bellissimo forse a te non piacerà molto perché un placca tunno vabbè ma è uguale ma veramente spaziale questo l'ho preso dal giappone è fatto ovviamente revisionare tutti i orologi che ho va bene ma anche il contesto anche il fatto del placcato no anche il contesto bisogna capire ok il placcato non lo preferisco ma anche lì cioè se stiamo parlando di un orologio anche nuovo semi nuovo contemporaneo perché devo prendere pvd oro placcato oro no man mano che si va nei vintage non mi interessa più questa cosa anch'io c'ho un longin cioccolatone con il calibro elettrico del millen degli anni settanta è placcato oro cioè bruttissimo è placcato oro ma ha senso ha senso collezionistico ha senso nel momento in cui io decido di volerlo così perché va a fa parte della collezione a completare un percorso no come in questo caso qua fa parte della collezione se è placcato oro ma cosa ce ne frega no poi si prendono in giro gli orologi placcati oro quello che vuoi perché uno va in negozio si compra cosa ne so un tisso nuovo di pacca placcato oro no anche no non ha senso non non hai motivo di prendere un orologio così se non per sembrare lucicoso no li faccio revisionare per conservarli al meglio passiamo poi diciamo ai miei due orologi preferiti come sappiamo tra il tra il 60 e il 70 la sua e la sua e la da ini diciamo combattivano amichevolmente per battere gli svizzeri iniziamo appunto da un king sego che amo o un 45 quindi diciamo movimento carica manuale montato anche su gransego 36.000 alternanze con stop dei secondi in questo caso una referenza preferita prenderla senza la data diciamo per rispettare quella che una perfetta simmetria diciamo la cassa veramente uno spettacolo diciamo preferito non lucidarla non tenuta diciamo le sue condizioni questa è la sua corona e l'anello diciamo il medaglione d'oro diciamo ancora in buono stato ecco sì sì bellissimo questo è stato prodotto dalla da ini un po insolitamente vediamo un king sego prodotto dalla sua un 5625 diciamo l'unico movimento creato dalla sua sun king sego questo è un 28 mila 800 alternanze automatico con carica manuale veramente molto bello molto bello ancora con la sua cibia e veramente sono orologi che che adoro indossarli veramente puro godimento in questo caso per la complicazione data completiamo il video con un 6139 80 20 un cronografo automatico di cui manca il bracciale diciamo originale il forato che è veramente molto molto raro io ti saluto è stato un piacere piacere mio ti seguirò sempre sempre e un saluto anche tutti gli amici a casa che ci guardano grazie ciao 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 allora ti do un toppino per tutta la collezione facciamo di tutta l'erba un fascio dai perché proprio anche non solo per gli orologi in sé che sono tutti belli mi ha fatto venire quasi la scimmietta la scimmietta dei secoli di collezionare seco figurati un po toccherebbe mettersi a studiare anche perché non ci capisco niente cioè te parlavi parlavi e io mi veniva c'è il punto interrogativo qua dentro hai capito però mi piacciono un casino poi soprattutto quei secco 5 di quando vede secco 5 vintage col fondello chiuso con le scritte con le diciture no rispetto a quelle di oggi che ci hanno calibro a vista sono usano più fascino hanno più fascino quindi complimentissimi 6139 dire alla fine me l'hai fatto vedere così veloce no nemmeno ho capito cos'è come è fatto se qualcuno mi chiedesse che colore non lo so non lo so vabbè a meno che non c'è qualcosa che non vai fatto veloce per non farcelo vedere ma nessuno ti giudica nessuno ti accusa complimenti bellissima collezione di secco che cioè mette anche in evidenza la voglia di studiare di come fai a ricordarti tutto non lo so veramente complimenti perché tutti i minimi particolari ci dobbiamo mettere a a collezionare secco anche noi ma va bene dai prossimo video ciao davide sono francesco dalla provincia di napoli napoli vorrei mostrarti la mia modestissima collezione di orologi modestissima ma prima anzitutto come da consuetudine volevo farti complimenti per il canale grazie per il modo in cui ci intrattieni per il modo in cui ci diverti e per il modo in cui ci istruisci sugli orologi ma smettile senza badare ad ulteriori ciance vai iniziare subito con il presentarti la mia collezione la presenterò in ordine cronologico di arrivo degli orologi quindi partirò subito con questo un casio un classico casio con quadrante digitale nulla di speciale però come è solito sentir dire sul canale fa il suo mi fu regalato dalla mia ragazza il giorno del mio diploma e quindi lo tengo molto volentieri e lo indosso anche spesso spesso con piacere poi ti mostro il mio secondo e ultimo quarzone questo timex expedition con la tecnologia indiglo che non so se riesco a far vedere e anche qui nulla di speciale però credo che sia un orologio abbastanza robusto lo indosso soprattutto quando so che devo fare qualche lavoro che in qualche modo potrebbe andare a rovinare l'orologio e quindi niente ha una sua utilità ecco e lo primo automatico della mia collezione che è un classicissimo seco 5 e quello moderni con il suo movimento seco 7 s 26 c fondello a vista vedi e niente è molto criticato spesso per il suo bracciale di scarsa qualità però ma dire il vero a me esteticamente piace l'orologio lo trovo funzionale carino e quindi lo indosso come spesso si sente dire sul canale con tanta soddisfazione mi da soddisfazioni dopo di che un altro grande classico è questo citizen pro master e non aggiungerei molto altro anche su questo anche perché uno di quelli più presentati sul canale come come il seco 5 e niente devo aggiungere come commento anche in questo caso fa il suo fa il suo bellissimo magari mi dilungherò un po di più su questo il primo orologio vintage recuperato e questo tisso un vero e proprio dress watch diametro cassa molto ridotto è un 31,7 mm per essere il più precisi possibile 31,7 mm con una lunetta così larga secondo me al polso risulta ancora più piccolo di quanto sia o dress watch insomma vabbè diciamo di sì sì io sono abituato a considerare dress watch quelli tutto quadrante non con una lunetta così larga e comunque sì 31 mm vuole vedere con una logata e in realtà anche il cino avrei anche il suo cinturino originale che però ho dovuto sostituire in quanto quello si è praticamente indurito è impossibile da indossare quindi l'ho sostituito con questo aftermarket e questo tisso al suo interno contiene un calibro di manifattura tisso tisso 709 sul calibro era presente un seriale mediante il quale sono riuscito a risalire all'anno di produzione che con la precisione il 1962 62 devo dire che è un orologio che indosso molto 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 volentieri soprattutto sotto le camicie e nulla l'ho pagato davvero poco e quindi ne sono davvero felice 62 con questa con questo aspetto qua così lascia intendere quanto ti so fosse abbastanza all'avanguardia nel design perché nel 62 siamo ancora abituati a vedere gli orologi che risentono del degli anni 50 no con quello stile classico da orologio del nonno mettila così come vuoi una lunetta così larga nel 62 fa capire che erano già cioè erano già negli anni 70 praticamente dopodiché un altro bel pezzo ovviamente secondo il mio parere nella mia collezione cos'è è questo per seo che trovo molto particolare per la forma della cassa e molto particolare anche per il colore del quadrante che questo blu che fa il classico effetto dei gradi partendo da rio quindi andando da un blu più scuro a un blu più chiaro verso il centro e questo cinturino testa di moro testa di moro e nero davvero che ci sia ci stia davvero molto molto bene ovviamente anche questo è un orologio vintage l'ho presa da un mercatino il venditore mi ha detto che l'orologio dovrebbe essere degli anni 70 sì però io vedo c'è gli indici che hanno colore bianco e le sfere che hanno un colore giallo c'è qualcosa che non va non lo so boh no non credo anche perché poi pallini sarà trizio e poi pallini poi magari sono giallini anche loro però quindi non c'è il trizio sulle sugli indici il trizio c'è sui pallini e sulle sfere non lo so circa e lo indosso molto molto volentieri certo l'ultimo orologio della mia collezione è questo glazin che è stato il mio regalo di laurea ho chiesto espressamente questa referenza poiché non ha la sfera mercedes vuota che mi turbava un pochino sinceramente e ovviamente questo glazin combat sub referenza glow 185 per il costo che ha è davvero un grandissimo orologio o meglio è un orologio di buona qualità vedro zaffero movimento automatico sellita sv 201 impermeabilità a 200 metri in quanto ovviamente è un diver e nulla bracciale che ritengo davvero robusto e quindi su questo glazin combat sub mi vedo costretto a concludere la presentazione della mia collezione spero che il video ti sia piaciuto spero di essere stato il più coinciso possibile il più spigliato possibile come ci tieni a sottolineare e nulla un saluto e rock 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 niente abbiamo chiuso in bellezza con questo gliss in combat sub da 42 mm c'è anche la 39 c'è anche il 39 stile vintage 42 mm a questo punto io penso che 42 mm sia la migliore referenza che c'è 39 forse con la ghiera così è un po' piccolino ed è una delle referenze più belle anche secondo me al di là della della sfera paletta di quegli altri questo qua ce ne sono anche un altro paio di belli da 42 mm uno con gli accenti rossi all'interno c'è mio amico piero mi ricordo ci sono delle versioni da 42 mm del combat sub che sono particolari e poi c'è una marea ce n'è poi anche gli altri orologi bellini tutti vintage che ha il per seo simpatico il tissù dress watch anche quello lì veramente bella chiappetto bravo dai secco 5 c'è tutti orologi decenti nessuna nessuna ciofeca oggi non ho tirato fuori nemmeno un cartellino rosso com'è sta storia qua boh andiamo avanti ciao davide sono mattia da siena mattia da siena cos'è io mi fermo perché vorrei sapere cos'è la mia ignoranza qui la mia ignoranza salta fuori totalmente perché io non so cosa sia proton packs paradox non so nemmeno qual è il nome del gruppo e qual è il nome dell'album figuratevi un pochino c'è anche le sidra va bene però sarà roba progressi visto qua e lo sento che progressi è vero dimmi di sì questo non è il primo video che ti mando te l'ho mandato in passato anni fa un altro paio questo è un veloce aggiornamento sugli ultimi due orologi che ho acquistato bravo intanto partiamo con un po di pubblicità occulta invece della solita tovaglia ho messo il disco l'ultimo album della mia band proton packs faccio rock così invece di mettere una tovaglia di dubbio gusto ho messo un bel vinile ecco fatto quello mi sono salvato ancora cioè ho detto che sono ignorante per forza perché è il disco della sua band quindi sono giustificato a non conoscerlo no facciamo un po di pubblicità dai però se non si sa cosa che musica fanno l'importante che c'è la chitarra distorta e la doppia gran cassa poi il resto viene da sé il primo orologio che ti faccio vedere è questo seco gmt bravo seco 5 gmt che ho comprato da qualche mese e ho trovato finalmente un utilizzo per la sfera gmt dopo un po di ragionamenti perché ho due cani amici che abitavano prima siena adesso si sono trasferiti negli stati uniti e uno sta in main e uno abita in north carolina ed entrambi sono nel fuso orario di arbor quindi quando tengo attivo questo orologio diciamo che setto la sfera gmt sul sul loro orario così so anche che ore sono dove abitano questi due miei amici ora no il fatto settare la sfera gmt ok ti metti l'orario normalmente poi invece di stare a settare la sfera gmt in questo caso sulle quattro ma puoi lasciare anche dove è ruotare la ghiera e fargli arrivare il quattro sulla sfera gmt capito si fa anche prima io faccio così se voglio sapere l'orario in canada c'è il gran premio non voglio sapere gli orari delle prove libere ok quindi utilizzo la ghiera per sapere il fuso orario degli amici che sono laggiù è sembrata un po la cosa più logica da fare piuttosto che tenere inutilizzata la la funzione gmt ecco bravo il secondo orologio che ti voglio far vedere invece è questo bell'eberhard champion ah bellissimo che ho preso da pasquali domenici e l'avevo visto e notato anno scorso ad aprile l'anno scorso quando fu fatta la promozione da pasquali domenici ma ci rimuginai un po troppo e me li lasciai sfuggire perché poi fu detto insomma che erano esauriti e per fortuna poi guardando i tuoi video qualche mese fa sotto natale mi sembra ho visto che ne erano rimasti alcuni e a me piaceva in particolare questa referenza con questo materiale luminescente un po sul verde e il quadrante bianco che mette se si vede mette in risalto questa lavorazione piccoli pallini che c'è sul quadrante sta quella promozione che ha fatto l'amico giacomo della gioielleria pasquali domenici non mi ricordo quant'è il prezzo ma mille tre mille tre per un cronografo eberhard ragazzi chi l'ha preso ha fatto l'affarone anche se dovessi venderlo un giorno e meno di mille tre lo regali quindi i soldi non sono persi ti godi l'orologio senza aver perso i soldi quando ho visto che ne erano rimasti alcuni l'ho preso subito perché era sempre piaciuto molto è fatto bene ci ha messo questo cinturino con queste impunture un po marrone rossiccio ora la luce lo fa apparire ancora più rosso di come in realtà però è sul marrone rossiccio diciamo che mi sembra ci stia abbastanza bene e ho provato anche a cercare il bracciale ma purtroppo eberhard se ho capito bene i bracciali li fa in svizzera quindi sono molto costosi si trovano a non meno di tre quattrocento euro non so se riuscirò mai a trovarlo a un prezzo decente ma ci sta bene deciderò a fare questo questo sforzo e niente tutto qua gli orologi che ti volevo far vedere erano questi l'unica altra curiosità che ti vorrei far vedere riguarda la mia scatola del tempo mi sposto un attimo così te la faccio vedere non so se è mai capitato a nessuno ma la mia scatola del tempo sotto quando va in movimento ogni tanto cede un po di questa sorta di polvere grigiastra e onestamente non ho capito come mai vorrei sapere dagli amici del canale se è un problema che ha riscontrato anche qualcun altro grazie mille per la tua disponibilità e il tuo canale e la community che hai legato grazie a tutti grazie 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 questo problema qua ascolta io ho una scatola del tempo di quelle lì cinesi non è non è questa qua con gli accenti di finto carbonio la mia completamente in pelle non fa questa cosa qua però ci sono dei truccioli di gomma in fondo ci sono pochi perché ruotando mangerà qualcosa consumerà qualcosa ora te non potresti far altro che aprirla aspirare pulire vedere dove tocca mettere uno spessore se il caso sono un po di fai da te un po di cose così c'è da dire che la mia ce l'ho da 5 6 anni l'ho pagata 40 euro e 6 anni ancora lì che gira cioè per l'amor del cielo capito dovesse rompersi domani non funzionare più e sono i 40 euro meglio spesi della mia vita perché mi ha durato cinque anni non è che deve durare l'infinito non è mai successo niente in questo caso io direi dargli un'occhiata si può sistemare ci sarà qualcosa che tocca che sfrega nel momento in cui gira si risolve puoi anche lubrificarlo che ne so per il resto se c'è qualcuno che ha quel problema lì che ha proprio questa polvere grigia che non si sa dove viene lo scriva per il resto ci ha fatto vedere i due orologi che ti sono arrivati di cui leber arcempio che tu ho già detto che cronografo a mille tre è fatto la farone e il 6.5 gmt che è sempre il suo bel vedere nulla da dire sul 6.5 gmt come su tutti i 6.5 perfetto ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto è non è che possiamo stare qui a smacchiare i jaguari all'eternità io devo andare a vedere i video dei gattini su instagram come sapete mi rilassano mi metto lì guardo il video dei gattini che girano che fanno miau miau si arrampicano fanno le cose buffe fanno le cose buffe io mi rilasso detto questo vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao